Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Ho chiuso tutto. Mi ascolto pure, dai pezzi di merda, ma che parla che siete però! Non mi sembra che poi, ripeto, secondo me basta entrare in una qualsiasi mia live, a meno che non sto facendo una capriola o scorreggiando in quel momento. Non lo so, non mi sembra proprio di dare l'idea di essere una che è... Mi piacciono i cazzi! Vado in bagno. Non fate la clip di questa cosa e non caricatela su YouTube. Se no vi straico. Mi piacciono un sacco i cazzi grossi e stuccosi. C'è mio amario? C'è mio amario? il nostro joypad rosso che abbiamo usato in questi sei mesi ormai perché prima non giocavamo ho intenzione di lasciarlo andare eh sì lo lascerò andare lo lascerò andare non è rotto non è rotto il cerchio funziona, vi ho mentito facevo io schifo a giocare vi ho mentito doveva uscire Kinomar 3 su quella merda doveva uscire Final Fantasy Versus 13 su quella merda ma tu lo sai che Jeff, il mio migliore amico l'ha comprata per lo stesso medesimo io l'ho comprata perché doveva uscire quella fantasy versus 13 e Kinomar 3 non è mai uscito su PlayStation 3 fatelo alla merda ok ti lascio fatelo alla mia notte non è mai uscito non è mai uscito non è mai uscito Kinomar 3 non è mai uscito su PlayStation 3 sì ma è uscito su PlayStation 3 mi hanno mentito mi hanno mentito mi hanno mentito è una ragazza Mario me lo fai venire duro ti ricorderemo come un drogato sei molto sexy ciao Paolino ciao grazie mille ha vinto il sì nel sondaggio Mario mi dedichi una capriola a cracco ci sono schegge di vetro acuminate nel pavimento come cazzo te la faccio una capriola? Mario Mario è cambiata la ragazza non c'è più Tina è qui nel momento in cui dico dobbiamo spaccare la madonna mi so che sono un po' incazzata Tina 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 era una grande comunque dai ci sentiamo bene Tina Tina era una grande ci sentiamo bene raga ho fatto la ruota di me adesso lo puoi eliminare vedi che fa sempre questo problema qua guarda questo qua io te l'ho detto mobile non è così utile c'è sempre sempre qualche anomalia mi dispiace Simone sempre a te queste cose ti faccio il dito medio mettendoti in mezzo alla cosa qualcuno potrebbe sentirsi offeso ah ma dai sì anche se ti faccio no così secondo me vuol dire proprio il segno di Naruto questo è il kagebushin no jutsu quindi no quindi no questo no oddio che paura certe volte fa cose da schizzata ma non è vero non si capisce una volta è venuta a casa mia e per salutarmi ho fatto così ma perché poi non credo che loro sentissero l'odio ma perché fai un po' certo che faccio cose mi picchio una cosa intera nella cola mentre sto mentre sto bevendo non ti tiro la cosa in faccia perché mi sembra una cosa brutta eccoci Mario ha sparlato di Eren ma non è vero non è vero hai capito questo dico eh sì è stata una piacevole chiacchierata ragazzi in questa in questa attesa che Elena prendesse la nuova acqua no abbiamo parlato di un sacco di cose comunque siamo d'accordo oddio vuoi l'acqua o no? voglio bere l'acqua vuoi bere l'acqua mi ha ficcato la bottiglia dentro la bocca mi ha ficcato la bottiglia non vedo un cacchio di niente ma addio merda cane di merda cane di merda se stai in attenzione o non ho bisogno no? cosa? no non ho detto niente dov'è? se puoi farti vedere brutto cane di merda così e poi ti voglio alzare Mario Mario è il suo naturale abitato avete visto quanto cazzo è a suo agio l'hai visto che l'ho lanciato verso la parete? sì che l'ho visto infatti è molto errore che mi imbalzasse perché la tipa ha detto attenzione e aveva bisogno di aiuto per cantare una canzone qual'era la canzone? determinus determinus grazie per questo andiamo ti seguiamo solo per le lontre non è vero so che non è vero inter merda per fare il treppiede vi è rubato non abbiamo rubato un cazzo per fare il tre è stata la Juventus che ha rubato Mario si è la panese copia di Giampiero più inter merda va bene questa chi l'ha detta? un coglione l'ha detta io lo seguo veramente solo per le lontre non è vero per le lontre no per le lontre no per le lontre no basta basta le lontre vai mi fai mettere qualcosa mi fai mettere va bene diciamo che non è che le mie azioni siano poco provocatorie nei confronti di tanta gente che puoi ritenersi ovveso dovrei spetterla porco dio che male non l'ho fatta a forza che fai? no mi sono lanzato e mi sono fatto un altro è stato magico è piaciuto è piaciuto si mi sembrava che si erano contenti ma poi questa cosa della pala che l'ho presa e l'ho adagiata al cielo è stato veramente carino perché bene o male 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 sapete noi di Slash di Slash noi di Slash che fai? merda schifosa del cazzo schifoso di merda dio viscido schifoso siete tutti dei gran pezzi di merda lo sapete? no no siete dei figli di troia non potroppo un po' troppo scusate siete dei pezzi di merda no ho detto no no mi devi scrivere in privato Sammy Sammy scrivi in privato non ancora ricevo tanto il messaggio no no siete dei pezzi di merda un po' troppo sì sì un po' troppo dei grossi pezzi di merda fumanti proprio la sento da qua la vostra puzza di merda raga è ghiacciata questo lo buttiamo per dei indistruttivi mi è arrivata fino al butt crack vuoi rompere qualcosa adesso che si sveglia? scacco scacco tutto sì mi faccio mettere le principesse sirene o tu vai normale? vai normale vai normale dai rimango io senza casco sto io con la chat aspetta non me lo metto il casco perché ho i capelli bagnati aspetta metto così white puoi metterti la la cosina che protegge altrimenti col caso